Lei lo sa che è vietato andare a torfinito? No, adesso me la metto. Una scena questa che tra qualche settimana non vedremo più, almeno qui a Portofino. Siamo a posto. Allora bene, l'ho avvisata. Arrivederci. Dopo il caos, selfie sì o selfie no, con il guardia anche paventava il divieto dell'autoscatto in piazzetta, ora è in arrivo l'ordinanza decoro. Un provvedimento che vieterà i bivacchi, sedersi per terra, ma anche e soprattutto di girare scalzi o in costume da bagno e appunto a torso nudo. Il decoro è civiltà, è importantissimo. Una decisione presa dal primo cittadino e che sta dividendo la famosa piazzetta di Portofino. Per molti è una decisione giusta. Per me è una questione di decoro e ci sta. Ci si può sempre mettere un pareo, un bell'abito e poi spogliarsi in spiaggia. Torso nudo e bichini in piazzetta, si può anche rinunciare da piazzetta. Neanche scalzi no, ci vuole un minimo di... Ma sì dai, un po' di decoro, minimo. Per qualcuno è veramente esagerata. Basta non essere nudi, voglio dire, un bichini, un bagnetto, anche solo una toccata e fuga. Siamo al mare quindi ognuno commina col costruito. L'estate è una cosa folle perché se fa caldo... Siamo al mare perché bisogna vietarlo, non sono d'accordo. I favorevoli all'ordinanza hanno le idee chiare. Se ne vedono di cotte e di crude. Cosa si vede signora? Sono curiosa a questo punto. Non vedo perché io devo vedermi le nudità degli altri in piazzetta. Di altro parere la fazione pro bichini e torso nudo. Anche un signore in costume fa piacere. Un'ordinanza che fa già discutere ma che è chiara a tutti. Il primo cittadino mette anche fine alla polemica e dice sì ai selfie. E per far star tranquilli tutti, ecco la prova. Selfie col sindaco, eh? Selfie. Vado io così. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti.